L'anzianità in buona salute è una speranza concreta per chi ha buona istruzione e un reddito elevato. Per tutti gli altri, con il crescere dell'età, aumenta il rischio di fragilità psicofisica. È la triste conclusione alla quale portano i dati dell'indagine SHARE, uno dei più imponenti sforzi di ricerca internazionale, presentati al Festival dell'Economia di Trento da Guglielmo Weber, economista dell'Università di Padova. Professor Weber, innanzitutto, che cos'è l'indagine SHARE, quali sono i numeri e quali sono gli obiettivi? L'indagine SHARE è un'indagine che conduciamo sulla popolazione di ultra cinquantenni in diversi paesi europei. Adesso è arrivata a coprire 28 paesi, di cui uno ex europeo, l'Israele e 27 sono paesi europei. fa parte di un gruppo di indagine a livello mondiale, analoghe, molto simili. Uno è negli Stati Uniti e poi ci sono in Cina, in India, in Giappone, in Corea, in Sudafrica. Quindi in tutti quei paesi dove l'invecchiamento della popolazione è una preoccupazione, è una sfida per le politiche economiche e sociali, questa indagine viene condotta e viene condotta in un modo che consente di guardare i vari aspetti della vita delle persone, non solo l'aspetto socio-economico, non solo la salute, ma anche le relazioni sociali e interpersonali. E vengono interessate le persone più volte nel tempo, perché l'invecchiamento è un processo dinamico e quindi bisogna sapere come le persone cambiano nel tempo. Chi sono gli anziani più fragili nella società? Certamente gli anziani più fragili intanto sono spesso quelli più anziani. La fragilità cresce con l'età e questo è inevitabile. D'altra parte il processo di invecchiamento è un processo in cui si perdono alcune capacità, alcun capitale accumulato, come ha spiegato anche il professor Bruggiavini nel precedente intervento e questo è un aspetto fondamentale dietro. Però una volta a parità di età gli anziani più fragili sono spesso anche quegli anziani che hanno un minor livello di istruzione e che hanno anche un minor livello di reddito o di capitale di ricchezza accumulata, quindi di capacità di spesa. Quindi nel complesso c'è il tema della disuguaglianza, che è il tema del festival, si vede anche in questa età avanzata in cui si rischia la non autosufficienza, in cui c'è la fragilità, in cui ci possono essere problemi cognitivi importanti che tipicamente sono più remarcati per coloro che hanno un minore istruzione, un minore tenore di vita. I dati dell'indagine SHER sembrano evidenziare che nell'Europa mediterranea la fragilità è più alta rispetto al nord Europa. È un problema di politiche? In parte, come dicevo, rispetto anche al fatto che il campionamento dell'indagine cattura persone che vivono per conto loro. Dopo, se vanno in casa di riposo, vengono seguite, ma altrimenti no. Quindi in parte è questo. In parte però cattura anche il fatto che, malgrado tutto, nei paesi del sud Europa le persone vivono di più. Quindi più si vive, più c'è questo rischio. Quindi in parte è anche semplicemente un segno di successo del sistema di cure informali. E che questo sistema di cure informali, con il rovesciamento della piramide demografica, diventerà difficilmente sostenibile con l'andare del tempo. Da economista, quali consigli si sente di dare agli decisori pubblici, locali e nazionali per ridurre i problemi legati alla fragilità dell'anziano? Ovviamente qui la ristrettezza delle risorse è una delle grandi preoccupazioni, perché se avessimo risorse limitate non avremmo grandi difficoltà. Allora le conoscenze che maturiamo con le indagini, che SHER è una ma ci possono essere molte altre indagini, è indispensabile per individuare le aree di maggior bisogno. Bisogna puntare delle politiche che vadano proprio nella direzione di aiutare chi ha maggior bisogno e anche di aiutare chi aiuta. Perché questo è un aspetto che non ho sottolineato nella presentazione, non ce n'è tempo eccetera, ma molto spesso il welfare informale non è soltanto la famiglia, ma sono anche associazioni, un associazionismo volontariato, che sono molto rilevanti in Italia, come nel resto in molti altri paesi. E lì l'aiutare chi aiuta può essere una soluzione per evitare di arrivare alle soluzioni, diciamo, dal nord Europa che forse sono meno personalizzate e creano maggiore difficoltà psicologiche ai grandi anziani.